Qual è la prima cosa che ricordi? Il fuoco. Come ti chiami? Kristen. Benvenuta al reparto. La tua nuova casa. Perché sono qui? Non riuscirai a farti dire niente da loro. A volte portano via le ragazze e non tornano più. Fossi in te farei molta attenzione. C'è una presenza qui. Sono certo che tu abbia visto quello che dici. Io non sono pazza. È l'ultima di noi che è uscita da qui. Era una di noi, ma se n'è andata ora. Ritornerà per ucciderci tutte. Le devi affrontare. Dobbiamo andarcene da qui. No! La camicia di forza. No! No! Non è stato poi così terribile. No! No! Grazie a tutti.